Il lavoro. In questa seconda parte riflettiamo sul verbo fare, il verbo essere e il verbo lavorare. Io sono Kofi. Faccio il meccanico. Io lavoro in un'officina. Questa è l'officina. Mia moglie Anna fa la commessa. Lei lavora in un negozio di abbigliamento. Abbigliamento significa vestiti. Marco e Ali fanno i camerieri. Loro sono colleghi. Loro lavorano in un ristorante. Colleghi significa persone che lavorano insieme. Anche Darika lavora in un ristorante. Lei è una cuoca. Lei fa i turni in cucina. Fare i turni significa cambiare orario di lavoro ogni settimana. Io sono Latif. Lavoro come benzinaio in un distributore. Questo è il distributore di carburanti. Antonio è mio amico. Lui lavora nell'autolavaggio. Noi facciamo la pausa pranzo insieme. La pausa pranzo è un momento di riposo per mangiare. Tu sei una studentessa. Tu lavori la domenica in un supermercato. Tu fai la cassiera. Questa è la cassa del supermercato. Voi siete muratori. Lavorate in un cantiere. Voi fate un lavoro faticoso. Questo è il cantiere. Faticoso significa pesante. Noi siamo infermieri. Noi facciamo i turni in ospedale. Lavoriamo anche di notte. Fare il turno di notte. Si può anche dire fare la notte. Io faccio il meccanico. Lei fa i turni in cucina. Noi facciamo la pausa pranzo. Voi fate un lavoro faticoso. Verbo fare. Io faccio. Tu fai. Lui, lei fa. Noi facciamo. Voi fate. Loro fanno. Io sono Kofi. Lei è una cuoca. Antonio è mio amico. Loro sono colleghi. Verbo essere. Io sono. Tu sei. Lui, lei è. Noi siamo. Voi siete. Loro sono. Io lavoro come benzinaio. Tu lavori la domenica. Lavoriamo anche di notte. Voi lavorate in un cantiere. Verbo lavorare. Io lavoro. Tu lavori. Lui, lei lavora. Noi lavoriamo. Voi lavorate. Loro lavorano.